Best for Soil, solarizzazione, vantaggi e svantaggi. Ciao, mi chiamo Miguel e sono uno specialista della solarizzazione, un metodo di disinfezione del suolo utilizzato qui, nel sud della Spagna. Questo metodo presenta vantaggi, ma ovviamente anche alcuni svantaggi. Questi saranno presentati e spiegati in questo video Best for Soil. La solarizzazione da sola o con aggiunta di sostanza organica, nota come biosolarizzazione, è un metodo di disinfezione del suolo altamente efficiente. Riduce rapidamente il livello di inoculo dei patogeni nel terreno prima della semina e questo è un fattore chiave nei campi dove siano presenti malattie trasmesse dal suolo. Le colture intensive sono suscettibili di subire attacchi da parte di agenti patogeni e nematodi presenti nel suolo ed è abbastanza comune che più specie possano essere presenti in terreni cosiddetti stanchi. Solarizzazione e biosolarizzazione presentano vantaggi poiché entrambe le tecniche hanno un'attività ad ampio raggio, quindi il livello di protezione per il raccolto successivo è elevato. Rispetto alle tecniche di disinfezione chimica o con vapore, la solarizzazione ha un costo ridotto con una buona efficacia. Un altro vantaggio, rispetto ai fumiganti convenzionali, è l'assenza di residui contaminanti. Non è necessario un intervallo d'applicazione prima della semina, consentendo così di ridurre i periodi di magese. La solarizzazione e la biosolarizzazione sono metodi naturali, consentiti per tutti i tipi di sistemi di produzione certificati, compresa l'agricoltura biologica. Inoltre, la biosolarizzazione contribuisce a ridurre i rifiuti generati in azienda, poiché i detriti vegetali possono essere utilizzati come sostanza organica per la biosolarizzazione, facendo così ricircolare la biomassa nell'azienda agricola. Non dobbiamo dimenticare che ci sono alcuni svantaggi associati alla solarizzazione. Sono necessarie condizioni molto specifiche per ottenere risultati efficienti, principalmente temperature elevate e giornate di sole che non corrisponderanno sempre ai periodi senza colture nelle zone temperate. Bisogna inoltre ricordare che tali tecniche richiedono un periodo minimo di 4 settimane, che possibilmente dovrebbe raggiungere le 6 settimane. Potrebbe essere necessario prolungare ulteriormente questa durata se per la biosolarizzazione verrà utilizzata una covecro o un sovescio come sostanza organica aggiuntiva. La solarizzazione è una pratica su misura per le colture in serra. Le superfici in campo aperto richiederanno elevate quantità di film plastici, che saranno esposti a possibili danni da vento, da uccelli e da altri animali. Nelle serre che sono completamente chiuse durante la solarizzazione si evitano tali problemi. Nonostante il fatto che la plastica per la solarizzazione sia adatta al riciclaggio, la plastica in generale è un input controverso per qualsiasi attività umana, agricoltura compresa. Un altro svantaggio della solarizzazione è l'effetto sugli organismi benefici. La maggior parte dei funghi benefici ridurrà la sua presenza nei suoli solarizzati, ma alcuni batteri benefici rimarranno o addirittura aumenteranno le loro popolazioni. Si possono avere problemi di lisciviazione di minerali o inquinanti, quindi è estremamente importante controllare la dotazione d'acqua quando si bagna il terreno prima di coprire, evitando che questa raggiunga il livello di saturazione del suolo.